eccoci qua con un nuovo video e questa volta vogliamo portarvi a conoscenza o meglio mostrarvi questa piccola perla che uscì nel 2007 se non ricordo male poi andremo a vedere i dettagli fu una collezione distribuita da edicola sempre distribuita da panorama dove comprende i sei film perché quei tempi erano sei film quindi i tre prequel e i tre classici di star wars qua vi metterò una foto che mi mostrerà come la collezione completa sarà ma questa volta andremo in ordine quindi vi farò vedere il primo volume il primo volume che è la storia a fumetti di episodio 1 la minaccia fantasma e giusto anche per vedere la qualità di quei tempi quanto merita allora vediamo che naturalmente copertina cartonata quindi è cosa molto molto interessante la nostra morte nera abbiamo naturalmente un riassunto del film del primo film quindi quando uscì episodio 1 vediamo sono indovinato l'anno 2007 questo volume è stato stampato nel mese di settembre 2007 e fu distribuito se ricordo bene con panorama ai quei tempi non c'era tanto internet e l'unico modo per recuperare alcune chicche era aspettare le stampe ed effettivamente trovare una collezione che rispecchiasse traducesse diciamo adattasse i sei film in fumetto non avevo trovato niente e questa collezione era degna di nota un'attrice per nuovo di pier giuseppe fenzi andiamo avanti quindi raccontiamo un po la storia per quanto riguarda episodio 1 dal grande schermo al fumetto quindi vediamo la trasposizione in fumetto dell'episodio 1 abbiamo tutto un po le curiosità la minaccia fantasma i disegni di rodolfo da maggio giorgia lavagna la traduzione eccoci qua allora la minaccia fantasma abbiamo il famoso riassunto e qua abbiamo quello che succede in episodio 1 praticamente quei con jim è il buono obi one che arrivano sulla nave vediamo se c'è qualche cambiamento ma non penso penso che il fumetto sia uscito giustamente dopo il film e non durante o prima vediamo l'attacco famoso attacco con i droidi l'argina padme amidala e l'ascesa da bui buon giorgia binks tutti odiano e non riesco a capire ancora perché venga odiato vediamo come parla giorgia binks tu detto altri scusa ma se hanno fatto la classica traduzione come nei film stile francese friulano benetton c'era un mix no nel doppiaggio italiano la scena del pesce più grosso bellissima scena andiamo avanti intanto nabu viene presa in ostaggio l'incontro tra giorgia binks e i droidi extra meccanici questa è la prima apparizione almeno in live action del buon r2 d2 che era già all'opera in quegli anni e questa è la sua prima comparsata diciamo che giorgia binks in episodio 1 era bene o male il c3 p o della situazione perché dopo vedremo il buon c3 p o dove nasce e dove nostro palpatine nel nostro dark mule che praticamente nel film non dice una parola se non due battute il nostro io adorato guatto il bellissimo guatto è l'incontro di anakin skywalk vediamo anche i disegni sono fatti molto bene la correzione verso i passati un po di anni tiene ancora regge il buon sebulba la scena di jar jar che si da un po sebulba il buon anaki che incontra per la prima volta la sua padme e qua abbiamo il buon c3 p o che prende vita o meglio viene attivato c'è il primo incontro diciamo così il primo incontro tra c3 p o ed il buon r2 d2 ma penso che bene o male i film li conoscete ecco forse l'unica battuta di dark mule è questa qua vediamo un po il buon guatto la gara degli sgusci che qua renderà poco in confronto al film volevo vedere se venivano nominati i minicloria vediamo un po qua non viene detto niente il risultato è fuori scala oltre di cimila c'è mi dicloria viene nominato da qua con g la scommessa con il dado l'arrivo di dark mule su tatooine ecco forse qualcosa di diverso un po di più sono i due se non ricordo male estetica dei due presentatori i piloti mi pare che forse questo non c'è se non ricordo male gli altri sono presenti compreso il buon sebulba la sfida diana chi è il buon giabba il buon gialba e di fortuna buon sebulba che farà una certa fine questa gara si diciamo che logicamente il fumetto taglia su tante cose ma è giusto così è un adattamento quindi ci mancherebbe andiamo avanti qua anakin lascia la madre da tatooine compreso il buon c 3 p o ecco abbiamo il primo scontro tra qua i congine e il buon dark mule bello scontro un po forse dimenticato però come dark mule che un gran personaggio che poi farà quella fine che fa poi sappiamo che nelle serie di matte ritornerà e farà un'altra fine che non so se era meglio o peggiore ma abbiamo un po la padme in borghese che c'è un po di io mi ricordo prima visione che padme non capivo mai ser lei veramente padme o era la damigella il consiglio jade quindi arriviamo a coro san vediamo anche coro san per la prima volta forse l'avevamo visto magari in episodio 6 nelle scene aggiunte della festeggiamenti non mi ricordo se prima del 99 maestro window che tutti sperano che torni prima o poi la stanza del senato abbiamo vediamo come tu stai se anche gioda parla nel suo modo inconfondibile giard giard che poi sarà lui la causa di tutto poi c'è l'incontro con il kung grande bosnas capo di gunga siamo già arrivati un po alla battaglia di nabu che effettivamente quei tempi era tanta tanta roba ma se su un abu si combatteva sullo spazio c'era già il buon anakin che incontrava il buon r2 che andava a combattere a far esplodere la sua prima astronave spaziale che poi più avanti avremo la morte nera il buon dark mule ad esempio qua c'è la scena famosa che aprono le porte c'è dark mule e quindi andiamo avanti tanto su nabu ci sono tre battaglie nabu anaki e igunga bellissima la battaglia forse il colore delle palle di gunga è sul blu se non ricordo male del film attendo un po sul viola ma nessun problema e lo scontro più bello volendo della prequel potremmo dire tra qua i con jim obi one e dark mule rende tantissimo ad esempio se con l'animalone lampo diverso perché quello che portavo allo scudo era più diverso però ci sta andiamo avanti siamo arrivati un po al grande colpo di scena qua qua i con jim che viene colpito ferito e poi avremo a beh spero c'è anche la battaglia di padme quindi ci sono quattro i punti di vista e non è da sconsiderare quei con jim che è deceduto praticamente abbiamo obi one che sta per vendicarlo intanto nello spazio abbiamo anakin che fa fuori la sua prima nave spaziale e qua abbiamo la più grande fine di un cattivo che era bellissimo forse perché non parlava ma anche esteticamente bellissimo che verrà tagliato a metà dal buono obi one e poi buttato giù nel canalone di nabù intanto la battaglia finisce il vicere verrà arrestato anche vicere abbiamo visto bene bene poco il funerale di quei con jim che qua viene bruciato ok che rispecchia un po il finale di episodio 6 quando fener viene bruciato da luke obi one tra l'altra cosa importante che obi one prenderà come suo apprendista anakin skywalker e finiamo qua praticamente con tutta la cerimonia con una grande immagine finale che anche qua volendo rispecchia un po quello di episodio 4 alla fine sommario epilico episodio 1 episodio 2 episodio 3 episodio 4 episodio 5 episodio 6 che è il piano dell'opera ai tempi episodio 7 ed episodio 8 non erano anche nelle menti di nessuno l'inizio di una leggenda il primo capitolo a fumetti della saga di star wars dalla sceneggiatura originale di george lucas volevo vedere se c'era il prezzo di quanto costava perché onestamente non ricordo sono passati quasi più o meno vent'anni 15 anni ma era abbastanza un prezzo contenuto vediamo un po' disponito per panini da panini da panorama babbla babbla deve essere venduto sicuramente abbinamato il periodo del panorama non c'è scritto il prezzo no però era distribuito insieme al giornale di panorama strano ma di solito se ricordo male hanno sui 7 9 euro forse tra l'altro ripeto da questa parte abbiamo la minaccia fantasma numero 1 con le prime scritte per quanto riguarda la scritta lunga della collezione di 6 volumi e quindi per il momento ci fermiamo qua con questo bellissimo adattamento a fumetti di episodio 1 star wars la minaccia fantasma poi vi farò vedere naturalmente anche tutti gli altri perché giusto per completezza e ci saranno alcune novità diciamo qua è veramente il primo film dall'inizio alla fine sugli altri c'è qualche aggiunta ma lo vedremo nel prossimo video naturalmente se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace condividete scrivete naturalmente nei commenti se avete domande e curiosità se magari lo avete anche voi avete preso quei tempi questa accolazione io l'avevo presa proprio in ridicolo quindi è veramente una piccola che perla che qua in redazione quindi naturalmente io vi saluto e vi ringrazio e naturalmente ci vediamo al prossimo video ciao